Tutta questa stampa, questa carta stampata, la carta ormai è demodè, ormai ci sono i tablet, ormai si va nella rete, i giornali vendono sempre di meno, è vero, ma i contenuti, se ci fate caso, partono tutti dai giornali. Poi vengono spalmati e spammati dappertutto, nei siti, nei rassegni stampa, nei telegiornali, avete mai visto uno scoop di un telegiornale? Hanno dei battaglioni di redazioni e non hanno mai una notizia in esclusiva, copiano i giornali del mattino e così fanno i siti e così fanno i social, quindi il punto di partenza, anche se i giornali vendono poco, è proprio il quotidiano di carta. In esclusiva su TV Loft, abbonati su tvloft.it e scarica l'app, ora disponibile anche su Smart TV.